Che così ampiamente Il nuovo libro degli spiriti a cura di WB, Cerchio K, attraverso Marco, Guida Psichica Ancora una volta vi abbiamo parlato di quella realtà che così ampiamente vi affligge, il dolore. Più vi sforzate ad ignorarla, più essa realtà vi frequenta. Più la temete, più essa vi terrorizza. Beato è colui che, avendo compreso tutto ciò, ha superato il dolore. Ma quanto lontane vi appaiono queste mete! Quanta tristezza in voi ogni qualvolta esse vi vengono da noi suggerite e prospettate! Voi avete udito che fu detto. Quando analizzate l'essere vostro non vi siano mete da raggiungere. Ma io vi dico, perseguite pure ciò con uno scopo, esso sia l'amore. Questo vi condurrà, mano a mano, a sempre meno giudicare e a sempre più comprendere quel che esperite. Possiate voi pervenire a quel donare che, in se stesso, trova vigore, nutrimento e ragion d'essere. Affinché la realtà divina, che tutto contiene e trascende, si manifesti tangibilmente in voi.